Allora, mettiamo le cose in chiaro subito. Io ne avrei fatto tranquillamente a meno. Me lo avete chiesto voi e ora ve lo beccate. Oggi raccontiamo, male, Simone Boccanegra. E ho già qui le compresse per il mal di testa. Un'opera con la trama così complessa che Beautiful gli espiccia a casa. Partiamo da un disclaimer. L'opera è stata scritta in un periodo in cui il politically correct non era esattamente al centro delle attenzioni. L'opera infatti oggi si chiamerebbe Simone Boccadonna di colore. Partiamo. Trama. Siamo a Genova. La città è divisa fra due fazioni. I popolani, che mettono l'aglio nel pesto, e gli aristocratici, che non lo mettono. Paolo, un influencer molto ambizioso che brama potere e danari. E non cominciamo con le battute sui genovesi soldi, eh? Vuol fare leggere ad oggi di Genova Simone Boccadonna di colore. Simone sulle prime non è granché convinto di accettare. Simone però ha avuto una figlia da Maria, figlia di Jacopo, che la tiene segregata nel loro palazzo, dato che A. Simone è un suo avversario politico, e B. I due non sono sposati. Sacrilegio! E ai tempi la cosa è la gravuccia. Paolo, per convincere Simone ad accettare, mi lo deve pure pregare, fa leva su questa situazione perché in sostanza gli dice una volta che sarai doge, Jacopo non potrà più rifiutarti la mano di sua figlia. Con questo incentivo Simone accetta e si recca quindi da Jacopo, il suo nemico, per chiedere la mano di Maria. Proprio in quei momenti però Maria muore, non si sa come, e Jacopo è talmente sconvolto dalla morte della figlia che ha la lucidità di proporre a Simone uno scambio di prigionieri. Io ti do mia figlia. È morta. E tu mi dai la bambina che avete avuto insieme. Simone ci starebbe anche questo scambio di carne umana, ma non può. La bimba infatti è scomparsa. Simone infatti aveva trovato la tutrice morta e la bimba sparita. E infatti dice tre giorni pianse, tre giorni errò. E lui come lo sa se l'hanno persa di vista e nessuno l'ha più trovata. Non potendosi quindi fare lo scambio, la pacificazione fra Simone e Jacopo va a farsi benedire. Simone scopre il cadavere di Maria e al culmine della disperazione viene proclamato doge. Una volta diventato doge, Simone fa bella mostra di Cristiano Perdono. Fa infatti esiliare Jacopo e tutti i suoi oppositori e ne confisca i beni. Basta battute sui genovesi e i soldi! Jacopo fugge via, cambia nome e vive con la famiglia Grimaldi. Ai Grimaldi, anni prima, era morta una figlia. Trovata un orfanello in un convento, l'avevano sostituita alla figlia morta e fatta crescere con l'identità della suddetta. Ovviamente, lo avrete già capito, questa bambina non è una bambina qualunque. È la figlia scomparsa di Simone e Maria che di nome si chiama... Maria. Cioè, hanno dato lo stesso nome alla mamma e alla figlia? Ma allora ditelo che volete che non capiamo una beata. Ricapitolando, la scomparsa figlia di Simone è stata allevata dai suoi piacernimi nemici come loro figlia e loro non sanno che è la figlia di Simone in realtà. Se già vi siete persi e resistete, siamo solo all'inizio. Passano 25 anni e questa ragazza, ovvero la bambina rapita di nome Maria che ora ha preso il nome di Amelia, nel frattempo è cresciuta e ama tale Gabriele, ennesimo nemico di Simone che vi ricordo è il padre naturale di Amelia. Per paura di andare in sposa a Paolo che la brama, affretta le sue nozze con Gabriele. Durante un incontro con Simone, Amelia capisce di essere sua figlia. Padre e figlia si abbracciano commossi ma poi vai a capire perché non lo dicono nessuno così, senza una ragione. E attenzione che questa scelta influirà drasticamente sul resto della trama. Ma torniamo a padre e figlia. Fino a 5 minuti prima, Simone la voleva dare tranquillamente in pasto a Paolo che ha secco il doppio dei suoi anni, ma appena scopre che è sua figlia, capisce l'importanza etica, ma anche pedagogica, di assecondare la volontà dei figli e ha consente di farla sposare con Gabriele, il giovine che lei ama e che vi ricordo è un nemico di Simone. Simone dice a Paolo che deve rinunciare ad Amelia, senza dargli però uno straccio di giustificazione. Paolo la prende malissimo e secondo il costume dell'epoca organizza il ratto della ragazza. Specifico per i meno attempati, ratto non vuol dire topo. Fa organizzare quindi a un suo scagnozzo il rapimento di Amelia. Gli dice infatti, sul Lido a sera la troverai solinga. Ma chi te l'ha detto? Chi ti dice che ci andrà tutte le sere? Chi ti dice che sarà la sola? Cosa fa? Jogging? Saluto al sole? Ora, io capisco il fascino della MILF, ma a ben vedere tutto questo interesse per Amelia è abbastanza ingiustificato. Tenete presente che ormai va per i 30, un'età in cui a quei tempi si poteva essere anche nonni. E' una creatura. Ma qui va bene, qui anzi... Ha oltre 15 anni. Ma la voglia... Per lui fa più di 15 anni, praticamente mi fanno proprio l'età, qui crescono. A Genova intanto hanno aumentato l'accise sul pesto e il popolo in tumulto. Di questo tumulto non si capisce niente. Apparentemente ce l'hanno con Gabriele, che è il nemico di Simone. Ma poi ridano anche, morte a Simone! Simone, che ha le palle quadre, non teme la folla e la fa entrare a palazzo. Eh! Paolo, temendo che possa venire fuori la sua responsabilità nel rapimento di Amelia, dice, oh ragazzi, si è fatta una certa e cerca di tagliare la corda, ma Simone impedisce a chiunque di uscire. Simone salva quindi Gabriele dal linciaggio e gli chiede come mai volevano fargli la pelle. La ragione sta nel rapimento di Amelia e Paolo comincia a sudare davvero freddo. Gabriele infatti racconta di aver ucciso un tale, responsabile del tentato rapimento di Amelia. Sto tipo gli ha confessato di aver compiuto il rapimento su commissione di un uomo influente e il nome suo, chiede Simone, il reo si spense e pria di svelarlo, risponde Gabriele. Ciccio, bastava non ammazzarlo e quello parlava, eh. Immaginate la scena, parla, che ti ha commissionato il rapimento e gli dà una coltellata. Ah, un uomo possente, chi? Gli dà un'altra coltellata e quello muore. Gabriele accusa Simone di essere lui l'uomo possente, altro problema che si sarebbe evitato se banalmente Simone e Amelia avessero detto di essere padre e figlia. E gli si lancia contro per ucciderlo. Disarmarlo prima no, eh. Con uno scatto degno di una pantera salta fuori dal nulla Amelia che si frappone fra i due e racconta del rapimento. Rapita da bambina, rapita da adulta, bel record. Senza dire esplicitamente si capisce che Paolo è il mandante del rapimento. Anche Simone intuisce che Paolo è responsabile e gli impone una punizione terribile. Voi direte Karakiri? esilio? La lettura forzata dell'opera omina di Proust? Fuochino. Lo costringe a maledire il mandante del rapimento e quindi in sostanza ad auto maledirsi. Però c'è andato giù pesante. Atto secondo. Solo? Gabriele e Jacopo saranno in prigione. Gabriele per l'omicidio che ha confessato e Jacopo per essere a capo della fazione genovesi che non vuole mettere l'aglio nel pesto. Vi ricordo un passaggio che nelle marasma vi sarà sfuggito. Jacopo è il nonno di Amelia ed è colui che ha cambiato nome per sfuggire a Simone. Ora Simone è vero che sono passati 25 anni ma non averne anche il più vago sospetto che quell'uomo è il tuo mancato suocero che conoscevi benissimo ok diciamo che non sei fisionomista dai però se ci pensiamo bene anche Jacopo non è esattamente cintura nera di riconoscimento facciale Jacopo infatti sta benissimo che Amelia non è la figlia di Grimaldi ma che è l'orfanella che avevano trovato così come sta benissimo che sua nipote era scomparsa e non gli viene alcun sospetto circa la concomitanza dei due eventi non solo Amelia sarà pure un po' assomigliata a uno dei suoi genitori no? Jacopo però vive 25 anni con lei e non ravvisa in lei neanche una vaga somiglianza con Simone o con sua figlia prendo atto Paolo convinto che a breve lo arresteranno avvelena l'acqua di Simone siccome però è un meticoloso vuole essere proprio sicuro sicuro di ucciderlo fa quindi scappare di galera Gabriele e Jacopo e propone a quest'ultimo di pugnalare Simone nel sonno ma Jacopo sdegnato rifiuta immaginate la scena Jacopo uccidi Simone no ok allora per favore torna in prigione va davvero così Paolo gli dice letteralmente ti rifiuti sì al carcere te invà e Jacopo solo soletto torna in prigione ve lo giuro allora propone la cosa a Gabriele che poi non faceva prima a ammazzare lui Simone senza chiedere a destra e a sinistra ma con lui cerca una chiave diversa e insinua che tra Simone e Amelia non ci siano solo rapporti di buon vicinato e anche qui come vi ho detto prima sarebbe bastato che i due non avessero nascosto a tutto il mondo di essere padre e figlia e a questo punto Paolo si attaccherebbe al membro un virilis ma non l'hanno fatto Amelia supplica Simone di graziare Gabriele e lui dà la tipica risposta di ogni ex moglie a un ex marito quando c'è una proposta riguardante il figlio ci devo pensare poi beve l'acqua avvelenata Belin ma non lo senti che l'acqua è avvelenata in realtà qualcosa sente tanto è vero che dice perfino l'onda del fonte è amare al labbro avendo bevuto poco il veleno non è subito letale e Simone si assopisce Gabriele pensa che quello sia il momento giusto di scannarlo ma Amelia come catwoman salta fuori un'altra volta e si frappone ancora fra i due Simone si sveglia rintronato come dopo un rave party si ria pacifica con Gabriele e gli concede la mano di Amelia sarà costei tuo premio o le donne hanno sempre la funzione dell'allegato di un'email in tanti genovesi arrabbiati per l'ennesimo rincaro sulla Genova Livorno sono ancora in rivolta Simone fa loro una proposta di pace e promette inoltre sul proprio onore che i lavori sulla 26 termineranno presto atto terzo ma è che è così finita la rivolta è sedata una volta tanto non nel sangue solo Paolo viene condannato a morte e come ultimo desiderio chiede un trancio di focaccia di recco prima di raggiungere il patibolo però dice a Jacopo non senza una punta di legittima soddisfazione di aver avvelenato Simone che anche se ha bevuto poco ormai è condannato Jacopo rivela il malvagio piano di Paolo a Simone che alla buona ora si accogge che toh Jacopo il suo mancato suocero insomma non se ne era reso conto nei 25 anni precedenti ma lo capisce in punto di morte nei deliri del veleno ormai prossimo alla morte Simone gli rivela che Amelia è sua nipote e dopo aver designato Gabriele come futuro doge finalmente tira le cuoia se siete arrivati fin qui e non vi siete ancora iscritti al canale fatelo ora oppure un doge verrà a casa vostra e vi costringerà a leggere l'opera omnia di Marcel Proust ci vediamo alla prossima trama raccontata male forse grazie a tutti